35. Grandi verità intellettive. Qual è il compito dei maestri immateriali? Commento. Il compito dei maestri che si manifestano attraverso grandi strumenti non è quello di portarci a comprendere con la nostra mente e portarci alla ricerca di grandi verità intellettive, ma di portarci per mano alla ricerca di verità che da sole bastano a giustificare il lavoro di vite e vite nella continua immersione di ognuno di noi nella materia.